Ciao a tutti, sono Bellof del canale Bellof Filme Series, bentornati in questo nuovo video e oggi per parlare finalmente della Snyder Cut, però prima di cominciare vi ricordo di mettere like al video quindi pollice in su e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora ragazzi, figata pazzesca, finalmente è uscita la Snyder Cut, rivoluzione totale, abbiamo un film completamente diverso, è quello che tutti i fan di Snyder e della DC volevano a me è piaciuto tantissimo, una bomba atomica incredibile. No, non è vero. Allora, ritornando a serie devo dire che è anche difficile recensire o parlare, perché recensire è una cosa grossa, di un film di 4 ore io l'ho visto tutto quanto stamattina, inframmezzato, ho fatto qualche pausa perché 4 ore di fila è complicato vedere un film e devo dire che il film non è brutto. Le 4 ore non sono così pesanti come credevano, però mentre stavo guardando questa Snyder Cut, mentre stavo guardando il film rivoluzionario che attendavamo di Zack Snyder la mia domanda è, ma io sto guardando un film diverso dal film di Whedon? O almeno io sto guardando un qualcosa che mi dia un'altra visione della Justice League che ho visto sul film, che era sempre di Snyder, però diretto da Whedon? Ecco, secondo me questa cosa non succede e con questo non voglio sminuire il lavoro di Snyder in questa Snyder Cut perché sappiamo benissimo tutti i problemi che ha avuto, sappiamo che doveva dirigere lui la prima Justice League sappiamo che ne ha fatta anche una questione personale per il lutto che ha avuto e quindi aveva riversato tutte le sue speranze nella Justice League, però già la prima versione aveva un sacco di pezzi suoi adesso qua abbiamo un film di 4 ore e voglio dire con 2 ore in più ovvio che ci sono approfondimenti, ovvio che capiamo qualcosa in più dei personaggi ovvio che c'è qualcosa della storia che non è come nella prima Justice League però non abbiamo un film né rivoluzionario, non abbiamo un film diverso dal precedente abbiamo secondo me lo stesso film allungato, amplificato chiamatelo come volete, minestra riscaldata, secondo me è come se fossero stati presi tanti reshoot sono state prese le scene migliori che riteneva Snyder dalla prima buttato tutto dentro il frullatore, allungato tutto e ha fatto una mega macedonia, un mega frullato enorme si guarda, pensavo che fosse più pesante, però secondo me è questo e perché dico così? Perché mentre lo guardavo volevo, cercavo qualcosa di differente ma la trama, la storia è quella i cattivi sono gli stessi, dark side o non dark side e la caratterizzazione dei personaggi è la medesima cioè un film diverso, almeno da un film diverso mi aspetto una diversa caratterizzazione dei personaggi mi aspetto che prima quel personaggio che aveva visto in una maniera adesso venga rivisto in un altro modo invece qua nella Snyder Cut così non accade è la stessa storia solo che amplificata all'ennesima potenza e con neanche tanti rallenti perché c'erano un sacco di presi in giro sui rallenti sui video pubblicitari che fa Snyder con le sue canzoncine che ci sono perché ci sono le canzoncine lente con i campi lunghi però non sono neanche eccessivi ma se noi andiamo a guardare proprio le parti del film qua mi sono segnato cioè noi abbiamo un Batman diverso da quello che avevamo visto prima noi non abbiamo un altro Batman abbiamo sempre lo stesso Batman poco Batman, molto Snyderiano un Batman fisico un Batman che se non ha i suoi orpelli combina poco un Batman che non è un detective ma pensa più a menare e non si capisce bene qual è la sua filosofia quindi un Batman per i cavoli suoi Aquaman diventa utile in questo film? no, è sempre il personaggio, il supereroe più inutile qua Aquaman non serve a nulla come non serviva a nulla prima Wonder Woman è la stessa ed è il personaggio che a me piace di più Gal Gadot a me piace sempre quando fa Wonder Woman criticato o no come è stato nel secondo film però se avete visto il video mio della recensione già lo sapete cosa penso su Wonder Woman 1984 quindi anche Wonder Woman rimane sempre la stessa abbiamo qualcosina in più per Cyborg e Flash ma come dicevo prima grazie al cazzo cioè un film di quattro ore ci mancherebbe altro che non mi aggiungi qualcosa quindi ci fanno vedere come nasce Cyborg ci fanno vedere la storia dell'incidente di Flash ci danno delle informazioni in più ma non è niente di funzionale alla trama non c'è niente che cambi la destinazione da A a B arrivava il field di Whedon e sempre da A a B allo stesso punto arriva quello di Snyder poi abbiamo il ritorno di Superman e anche qua Snyder rigira la frittata prima avevamo Lois che veniva portata da Alfred e veniva utilizzata per bloccare Superman con un'idea di Bruce Wayne di Batman e anche là era stato criticato perché si diceva ma scusa ma portatela subito se hai paura che Superman non sia quello di prima e infatti chi lo criticava c'aveva ragione te la mettevi là in parte come è risuscita Superman Lois Lane lo imbambola e lui diventa buono e bravo come al solito e invece no qua Snyder ha cambiato la cosa e ha fatto sì che Lois comparisse tipo dieci minuti dopo però sì soluzione non soluzione cioè lei arriva proprio da dietro la macchina di polizia come se fosse dietro l'angolo appena vede che Superman fa casino ciao sono io ciao Clark Superman ovviamente fa la stessa cosa del field di Whedon quindi prende parte e se ne va viene descritta meglio ci viene spiegato meglio anche come lui supera diciamo tutta la risurrezione e questa cosa qua ci sta e poi torna col costume nero costume nero è solo una miglioria estetica è solo figo da vedere ma non è che serva a qualcosa e secondo Snyder forse qualcuno non lo sa lui lo voleva mettere già nel primo film perché secondo lui il costume nero rappresenta la famiglia kriptoniana per Superman e quindi diventava da azzurro a nero nel momento in cui si sentiva più legato al suo pianeta per salvare noi per salvare la terra quindi secondo Snyder costume blu pianeta terra costume nero kripton e questo per carità ci può stare quindi come vedete tutti questi cambiamenti non ci sono tutte queste rivoluzioni non ci sono allora direte voi però il finale cambia il finale è completamente diverso e invece no anche qua il finale è lo stesso medesimo cioè Steppe Wolfe ha sempre la stessa fine Darkseid non arriva è il come che cambia e viene data più importanza per carità sia a Flash che a Cyborg che sono determinanti quindi c'è meno il discorso senza Superman la Justice League non vince che quella era un'altra cosa che veniva detta cioè la Justice League si forte tanto forte ma senza Superman voi non fate un tubo invece qua no perché Flash corre veloce Cyborg entra dentro il cubo smonta tutto quanto e fanno fuori Steppe Wolfe e Darkseid non arriva parliamo di Darkseid Darkseid che doveva essere il cattivo rivoluzionario della Snyder Cut che doveva essere il villain principale almeno si pensava così per i vari reshoot invece Darkseid non è il villain di questa Justice League come non è il villain della prima Justice League è uno spauracchio è uno spaventapasseri è CGI messa là da Snyder probabilmente per stupire lo spettatore per incuriosire le persone a vedere questa benedetta Snyder Cut che doveva essere prima un film da 4 ore poi doveva essere una serie da 6-7 puntate poi è tornato di nuovo un film in un colpo solo tutto sto marketing tutto sto girarrosto per far sì che noi ci guardiamo la Snyder Cut quindi mettiamo anche Darkseid così sai la gente è più incuriosita e pensa che arriva chissà che invece Darkseid alla fine non è altro che il villain del film che verrà ma il film che verrà cioè l'altra Justice League o lo Spiderverse e lo Spiderverse o lo Snyderverse come si discute adesso non c'è non ci sarà la DC Warner ha detto che questo con questo film qua si chiude il mondo di Snyder quindi che senso ha presentarci in questo film se hai il tempo di girarlo rigirarlo di estendere il minutaggio andare a mettere un villain che non vedremo mai cioè come dire che la Marvel ci presenta Thanos per 7 film però poi noi Thanos non lo vediamo mai ma allora cosa mai lo metti a fare e qua Snyder fa questo cioè sì bello da vedere la CGI per carità niente di eccesso però si fa guardare però è solo forma e niente sostanza quindi per me anche il finale della Snyder Cut è uguale al finale della Justice League di Wedon e non è che ci sono tante altre soluzioni questa qua è finito qua il film e dopo il finale abbiamo pure l'epilogo anche perché dopo 3 ore e mezza di film non ne avevamo abbastanza e Snyder ha detto sai che c'è vi metto altri 40 minuti perché dura circa mezz'ora 40 minuti l'epilogo allora nella prima parte dell'epilogo abbiamo il finale del film di Wedon perché c'è il papà di Cyborg le frasi che dice prese dal registratore che lui aveva precedentemente scassato sono molto belle a me quella parte è piaciuta c'è la melodia lenta si vedono le scene di Superman che torna a Smallville che Batman gli compra la casa per la mamma insomma quello che avevamo già visto nel film di Wedon e dopo la prima parte dell'epilogo carina tale e quale dove diranno che ci sarà la Justice League dove Wonder Woman dice no non saremo in 6 saremo anche di più e Bruce dice ok saremo anche di più c'è il sogno di Batman il sogno di Bruce che io sinceramente non ho capito cioè cos'è un what if un Elseworld e Snyder vuole darci la sua idea su quanto sia combattuta la mente di Bruce Wayne vuole farci capire che Bruce è supereroe sì però travagliato come nei fumetti che in quello che fa non trova mai pace per il dolore la perdita di Jason Todd e della madre del padre poi c'è Joker c'è Joker che era super super richiesto tutti a parlare di Joker ci sono delle parti con Joker sarà un incubo di Batman sarà il grillo parlante di Batman sarà solo nella sua testa e infatti sembra che sia così perché questo sembra altro che un incubo però io l'intervento di Joker non l'ho capito cioè a cosa serve cioè ho capito lui dice sono la tua nemesi come chi legge i fumetti lo saprà già perché non esiste Batman senza Joker non esiste Joker senza Batman però all'interno del film all'interno della Justice League che ci sta a fare Joker perché è stato messo per noi per il pubblico per impressionare per far sì che noi ci guardassimo quattro ore di film fino in fondo secondo me sì e alla fine di tutto ci sta pure Marzia Man Hunter che arriva proprio gli ultimi 30 secondi messo là come se fosse una scena post credit per incuriosire lo spettatore per adescare lo spettatore per vedere quello che verrà ma di nuovo quello che verrà non c'è non ci sarà un altro film di Snyder e poi non penso che la Warner faccia uno Snyderverse come dicevo prima cioè non ha senso è come dire che sempre parlando della Marvel ci sia il Gunverse ci sia lo Russoverse ma che senso ha cioè se tu devi seguire una linea tu segui una linea cinematografica cioè il Marvel Cinematic Universe c'è il DC Universe ho capito che la DC c'è i multiversi gli omniversi loro sono abituati agli Else War ma fare un Else War con le storie di Snyder sceneggiate da lui inventate da lui secondo me non ha nessun senso quindi l'epilogo secondo me è la parte peggiore di tutta la Snyder Cut cioè il resto della Snyder Cut è un film allungato di quello che avevamo già visto si fa vedere si fa guardare ok l'epilogo a parte la piccola prima parte secondo me è un po' non senso ma questo è parere mio magari qualcuno ci vedrà chissà che teorie chissà che genialate di Snyder però io queste genialate non le vedo in conclusione va vista va vista questa Snyder Cut bisogna assolutissimamente vedere questa nuova versione della Justice League se no non capirete quello che avete visto prima secondo me no secondo me questa Snyder Cut va da A a B tanto quanto la Justice League di Wedo andava da A a B sicuramente questo film è migliore perché nel suo complesso è migliore si capiscono meglio le cose ci spiega più cose ma dura 4 ore dura 3 ore e mezzo la Justice League Wedon dura almeno un'ora un'ora un quarto di meno quindi è ovvio che qua si capisca di più perché ci sono cose in più però tolti i fan tolti gli appassionati di cinecomic tolti quelli che amano l'action a tutta forza per il pubblico fra virgolette generalista ha senso vedere questa versione allungata secondo me no secondo me conviene guardarsi due ore della Justice League di Wedon ti vedi dove va a parare e fine chiusala almeno questo è il mio parere è la mia opinione detto questo ho detto tutto spero che la mia recensione le mie idee su questa benedetta osannata Snyder Cut vi siano piaciute e come al solito vi saluto vi ringrazio e vi abbraccio e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti